Prima di partire per un medio o lungo viaggio, diciamo quel viaggio da una settimana in su, fai questi check alla moto. Controlla lo stato delle gomme, che non abbiano tagli, crepe e che abbiano uno stato di usura ancora sufficiente per i chilometri che più o meno avrai in mente di fare. Controlla la catena, che sia ben tirata. Controlla lo stato della corona e controlla anche lo stato del pignone. Deve essere bello pulito, lubrificato, insieme a tutta la trasmissione. Se ancora non hai un parapignone ispezionabile come il nostro che abbiamo appena sviluppato ed è ancora in fase di test, allora seguici perché te ne devi procurare assolutamente uno. Con una rapida occhiata, senza dover smontare nulla, potrai vedere lo stato di questa zona della moto che troppo spesso viene trascurata. Fatto il controllo della trasmissione, il controllo degli pneumatici, mi raccomando, controlla lo stato dell'olio. Verifica l'ultimo tagliando quando è stato fatto ed eventualmente corri a farlo. Se usi borse waterproof e morbide o semirigide vai a verificare le saldature o se ci sono cuciture vai a controllare le cuciture. Controlla che non ci siano tagli e anche qui che non ci siano buchi che possono compromettere sia la tenuta stagna o addirittura che mentre viaggi si aprono e può succedere. Controlla lo stato delle calzature che utilizzerai in moto. Verifica in caso di stivali o in caso hai questo tipo di fibbie che siano in ottimo stato oppure provvedi subito a comprare i ricambi. Se andrai in campeggio e la tenda magari la utilizzi solo per queste occasioni e magari soltanto per farti le tue vacanze estive, allora aprila, fargli prendere un po' d'aria, se è il caso igienizzala, dagli una lavata ma soprattutto controlla tutti i punti che possono essere soggetti a usura. Vai a controllare anche il fondo, caso mai ci sono dei buchi e in quel caso puoi ripararli. Se il casco che utilizzerai per viaggiare è il casco che utilizzi tutti i giorni probabilmente conoscerai bene lo stato del casco. Quanto tempo è trascorso dall'ultima volta che l'hai cambiato perché ricordiamoci che i caschi scadono. Se invece è un casco che utilizzi soltanto per fare questo tipo di viaggio mi raccomando una bella igienizzata interna e anche lì verifica da quanto tempo non lo cambi e mi raccomando tutti questi controlli non aspettare l'ultimo momento perché se devi cambiare qualcosa oppure devi prendere un accessorio o magari devi prendere appuntamento con il meccanico a ridosso del viaggio magari non fai in tempo. Quindi prenditi un po' di tempo prima magari quando stai iniziando a organizzare il tuo viaggio e fai tutti questi controlli. Verifica la tua attrezzatura di sicurezza non partire con l'attrezzatura di sicurezza logora, vecchia e magari con qualche crepa. È il momento di cambiarla. E mi raccomando non partire con la moto stracarica parti con una moto leggera una moto leggera è più sicura tempi di arresto che si accorciano scarti improvvisi più veloci e ovviamente è anche più divertente una moto più leggera. È meglio dimenticarsi qualcosa piuttosto che avere qualche cosa in più che magari non ci serve. Tanto gli indumenti li possiamo sempre lavare e soprattutto se sei in due pensiamo che una moto così pesante con il passeggero e bagagli per due persone diventa veramente impegnativa poco sicura e poco divertente. Immagina districarti nei paesini con una moto stracarica e pesante è diverso quando invece abbiamo una moto più dinamica e ben bilanciata con i pesi. Se sei rifatto fino a qui ti ringrazio quindi fammi sapere nei commenti quali sono i controlli che fai tu prima di partire quando uscirà questo video probabilmente sarò in giro per l'Italia e per i Balcani ci stiamo incontrando per i corsi con molti di voi se sei interessato i contatti sono qua sotto e stiamo facendo un sopralluogo stupendo sui Balcani un percorso misto bellissimo per un viaggio che stiamo organizzando per l'anno prossimo quindi continua a seguirmi ovviamente seguimi su Instagram seguirai giornalmente l'andamento di questo viaggio cercherò di condividere il più possibile come sta andando il viaggio come sta andando il parapignone che stiamo testando che abbiamo sviluppato quindi non mi resta altro che dire gas brillante ci vediamo in giro e alla prossima ciao 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 Grazie per la visione!